Ma hai detto vieni su da me, l'inverno è caldo su da me, non senti il freddo che fa in questa nostra città? Perché non vieni su da me, saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Sì, ciao.